Ciao Scorpione, bentornato. Oggi è giovedì, 31 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Scorpione. Massima aspirazione fuggire. Con il ponte ormai a un passo all'Oveen domani sera, dopo il lavoro cominciate a decorare la casa portandovi avanti con qualche manicaretto, alternativa a preparare il trolley per la vostra mini vacanza, destinazione Europa. Non vedete l'ora di mettere qualche centinaia di chilometri tra voi e la vostra banale quotidianità, scandita dall'orologio di Mercurio che vi tiene il tempo. Fondamentale lasciarvi alle spalle le noie e le preoccupazioni di lavoro, guardando i vostri conti probabilmente questa parentesi verrà a costarvi parecchio, ma confidando nella bontà dei due astri della fortuna, Venere e Giove, che duettano sul fronte finanziario, date un calcio all'ansia, che la luna del giorno vi vorrebbe suggerire, e finalmente anche voi, tra i segni più pessimisti dello zodiaco, cominciate a guardare al domani con un sorriso colorato. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigie malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. Badate di mangiare in modo più sano e genuino, ma soprattutto con regolarità, negli ultimi tempi alcuni di voi stanno tascurando una corretta alimentazione e questo poi potrebbe provocare dei danni. Mostratevi coraggiosi e chiedete con fermezza un chiarimento necessario, questo non è il giorno per mostrarsi codardi e timorosi. Ricordate che un chiarimento vi sarà utile per schiarivi definitivamente le idee e affrontare il futuro con maggiore determinazione. I nati di martedi dovrebbero far controllare la propria auto, mentre quelli nati di lunedi e giovedì oggi potrebbero mettere a segno un bel colpo di fortuna. Fate pulizia tra le vostre amicizie, sia virtuali che reali, non lasciatevi prendere il cuore da nostalgie inutili o debolezze. Ciò che farete oggi servirà per un periodo piuttosto lungo della vostra vita. Su una questione da mopre avete pienamente ragione, ma protestarla sempre e costantemente non vi aiuterà a colmare il vuoto che si è creato tra voi. Spese improvvise che metteranno in crisi il vostro bilancio o in alternativa lo intaccheranno sensibilmente. Usate prudenza e astuzio per risparmiare. Opportunità da cogliere a volo e con entusiasmo, negli ultimi tempi avete lavorato bene e meritate quello che vi verrà offerto nella stessa giornata di oggi. Sarai allegro e affettuoso. Organizza una cena o una festa questa sera. Il lavoro non procede come vorreste e iniziate ad essere profondamente insoddisfatti anche della vostra retribuzione. È vero, non corrono tempi favorevoli, ma siete stanchi di alcune situazioni. Marte, Sole, Saturno, Mercurio, Luna e Nettuno vi promettono una giornata che vi rialzerà notevolmente lo spirito e l'umore. Soltanto, bisogna riconoscere, sarete un po' meno protagonisti del solito, ma questo può non essere male, poiché darete più spazio alla vostra natura dedita all'ascolto e alla curiosità per il circostante. In famiglia oggi darete più spazio invece alle varie anime del gruppo e vi attiverete per risolvere un problema di chi versa ora in difficoltà. Con le vostre economie domestiche vivete una fase di moderata tranquillità. Nel fitness Saturno vi dona un look spettacolare, specie se avete curato il vostro aspetto fisico nei mesi precedenti con un'adeguata attività sportiva. Il pianeta saprà inoltre ridonare giovinezza a chi è avanti negli anni. Imbrunciati con la luna malmostosa in dodicesima casa e tante, troppe spese da sostenere, ordini di venere in seconda casa e di giove in gemelli, che tenta di salvaguardarvi il gruzzoletto in vista di acquisti o investimenti più importanti per il futuro, magari la casa, oppure titoli azionari, ma sedi lapidate tutto ora in indumenti griffati, b e i ristoranti, arredamento e viaggi di lusso nel salvadanaio non rimarrà più nulla. Ricordate che la ricchezza non è fatta di bigliettoni, ma di sapienza, esperienza e doti umane. Amore ed eros. Gelosia, sempre la bestia nera, ma oggi stranamente vi lascia in pace, se qualcosa da dire c'è ve lo tenete stretto nel cuore, vergognandovi dei vostri stessi sentimenti. B e i messaggi pieni di entusiasmo e passione da una persona cara e lontana, le promettete di raggiungerla appena possibile e nel promettere siete davvero sinceri. Diventate romantici e tenerissimi, specie se nati nel mese di novembre. Il sentimento prende tutti i riflettori su di sé questa giornata, sappiate approfittarne. La posizione di Marte, benefica per il vostro segno nel cancro, segno d'acqua, esalta l'emozione amorosa. Chi vi ha sempre visto più attratti dall'avventura erotica, sarà costretto a ricredersi. Lavoro e denaro? Buona idea sarebbe combinare un viaggetto di piacere con l'affare messo in pista che ora attende la conclusione con una firma. Se il luogo dove vive l'interlocutore è situato in una zona gettonata, fate uno strappo alla regola, lavoro oggi e domani e poi il ponte a vostre spese, i classici due piccioni con una fava che convengono sia al calendario sia al salvadanaio. Organizzate con velocità, precisione e molta determinazione i vostri piani di lavoro. Marte cancro è l'astro fortunato che vi permette di aggiustare, adesso alcune faccende con la professionalità che vi contraddistingue, specie se siete nati nella terza decade. Benessere. In ottima forma, lo sport è il vostro toccasana, in più mangiando correttamente, anche se le porzioni sono piuttosto robuste, magari non perdete peso, ma nemmeno ne guadagnate. La golosità è un dato di fatto e dopo i primi giorni di euforia sortisce l'effetto contrario, imparate piuttosto a darle delle regole, oggi si fa lo strappo, domani solo verdure. Denaro. Vi piace giocare al totocalcio? Per divertirvi con gli amici e avere l'appoggio dello zodiaco, sceglietevi compagni del vostro elemento, l'acqua. Quindi i pesci, il cancro e lo stesso scorpione. Per lei, movimento e riflessione in giusta misura, prima la vostra mezzoretta di yoga o tai chi, poi un bel romanzo, finché non sopraggiungere Morfeo a chiudervi gli occhi. Per lui, davanti alla meraviglia del fogliage vi azzittite, nella bellezza trovate tutte le risposte che andate cercando. Colore delle emozioni, verde bosco. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.